Ugo è un camaleonte al passo coi tempi che ama cambiare sempre, alla ricerca del meglio. Così come tutti i TGR e le radio della RAI che dal 18 dicembre trasmettono su satellite solo in alta qualità per un'esperienza di visione a prova di futuro. Per ricevere tutti i TGR e i canali di RAI Radio utilizza un decoder HD o 4K. La TV e le radio del futuro sono sul satellite con TVSAT. Preparati al meglio. Grazie a tutti.